Un saluto a tutti e bentornati su GDR Land e su Blackguards Allora, avevamo difeso la città dall'attacco degli uomini in lucertola che non mi ricordo come si chiamano e il comandante della guardia ci ha fatto una proposta noi aiutiamo a difendere la città e in cambio ci fa attraversare il confine Tra l'altro il sovrintendente Laska ci ha... ha continuato a inseguirci, ci ha trovato però a quanto pare deve sottostare agli ordini del comandante Quindi... È over? Over? È solo che si è interessante L'Ajha stanno mettendo i cristalli di magica all'interno della città Il loro shaman sembra di preparare alcun tipo di rituale Il mio cuore madre sarebbe molto rilevato se qualcuno potrebbe smasciare i cristalli Dove sono questi cristalli? Dove sono questi cristalli? Uno dei cristalli si è trovato direttamente in fronte della gara e l'altro sull'interno della città Scraggia sulle scuole se hai bisogno Ok Corby con te Siamo incontri di nuovo Ne sono sicuro Laska Però per ora andiamo Vediamo come stiamo messi di equipaggiamento Ok, 82 frecce 60, dai dovremmo farcela Anche perché Ne abbiamo altre, quindi Abbiamo delle frecce da guerra Andiamo Allora Iniziamo Qui possiamo far crollare questi Questi supporti qua Questo è il cristallo E adesso qua Bisognerà Bene No, guarda Cominciamo benissimo Eh, vabbè Quello è lo sciamano Aia Io qui cosa c'ho? Vediamo Eh, oddio Potrei iniziare a usare alito gelido E però qui non posso Allora mi sto fermo Allora Norim Vai Ottimo Tocca a noi Allora Io indietreggerei Gli abbiamo lo sciamano Ancora che rompe Mi ha steso Norim E questo non va bene Per niente Eh, cazzo però Questo curava dai veleni E questo Dissolvi incantesimi Ah ok Però gli buffo Praticamente Eh, questi se la prendono con Norim Ovviamente Proviamo a stendere questo Eh, basta però Cacchio Eh, Norim sta per morire Cazzarola però Allora io direi che adesso Riprovo E ci vediamo dopo Quando sono a un buon punto A dopo Ed eccoci qui Sono riuscito a distruggere il cristallo Però purtroppo ho perso Il nostro mago Adesso proverò un po' a Praticamente il cristallo Curava i nemici ogni volta A ogni turno Provo un po' a dividermi qua Ecco Allora abbiamo il nostro nano Che va all'attacco Ah, cazzo Aia Oh, 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 oh No, spostati Oh, 14 Ottimo Merda Eeeh Potrei provare a curarlo Ottimo Ce l'abbiamo fatta Per ora Eh, cazzo però Niente Quello che c'ha tre Magari potrei provare a standard E almeno uno Proviamo a ricurare Norim Ok Ok E usati una pozione A sto punto Aia Vediamo Questo c'ha 17 Eh, un danno Però un po' troppo poco Allora fa una cosa Spostati Eh, qua tocca Dai Andiamo a A stendere Oh, no Non va bene Però possiamo Dai Quattro Merda Allora In teoria Questa adesso muore Adesso manca solo Cazzo Lo sciamano 50% Dai Provaci Ottimo E tu Cura immediatamente Norim Di nuovo Speriamo No, non ce l'ha fatta Ok Però abbiamo un altro Un'altra possibilità Dai No Ok Spostati Allora Cura Norim Dai Merda Per fortuna C'è Lucius Che continua a evitare Le codate Del bastardone Qua Eh, io Devo Tirare su Norim Cazzo Però Mi sa che a sto punto Conviene farlo fuori così Sì, a sto punto Conviene Vai Amica elfa Oh oh Bastard Bastard Ah cazzo Ecco Stanno steso anche Lucius Vabbè Oh cavolo Quanto movimento C'ha Lo sciamano Ok Uff Una pozione astrale Bene 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 Almeno Ce l'abbiamo fatta Allora Ci ricuriamo Tutti Poi devo Riequipaggiare A Norim Devo dargli Un'altra Pozione curativa Tu stai a posto Stai a posto Anche tu Adesso dobbiamo andare Alla via laterale Quindi Dall'altra parte Cioè A trovare L'altro cristallo No vabbè Forse un po' di Di frecce Eh no Purtroppo non ne ho più Va bene Ah no Forse il fabbro No Questo ha solo armature Però Ah no Aspetta Però Dardi L'arco lungo È lo stesso Che ho io Cioè io Che armi ho io Devo vedere Mi arci Riano l'arco No L'arco corto Ci hanno Sì Arco corto Che fa un D6 Più 2 Ok Vediamo un po' Invece L'arco lungo Un D6 Più 4 Eh allora io direi Che è un arco Ce lo pigliamo E lo equipaggiamo A Ser Lucius Ah almeno Facciamo un po' Più di danni E a sto punto Meglio che Rifornisco di frecce I nostri arcieri Ok Andiamo nelle fogne Allora potrei utilizzare L'ambiente a tuo vantaggio Ok Qui si scivola Sulle cose di fango Ok Vabbè E allora Con cos'è che No Con V Potevo vedere Le robe Interagibili Allora Ecco Questi sono già di più Problema Dove stanno Le robe di fango Perché qua Io non le vedo Allora io direi Cominciamo ad avanzare Allora Avanziamo così Io direi Che ci fermiamo Eh c'è Quel cazzo Di sciamano Poi hanno Sti giavellotti Ah ok Nell'acqua È scivolato Lo stronzone E allora Perché non crepi Ah no Devo muovere No cazzo È vero Merda E allora Ci muoviamo di qua Sperando che non cada Ha 11 danni Ok Per fortuna Sono abbastanza idioti Però cazzo Fanno male Esatto E si curano Si curano di tutto Quindi io Beh questo però 12 E questo che fa Fulmine Ecco Dai Questi giavellotti Forse in teoria Questo riesco a farlo fuori No No Peccato Aia No Non va bene per niente Allora Io direi Che ormai Siamo quasi Siamo quasi alla fine Direi che No Allora Ci riprovo un'altra volta E poi magari Faccio un altro episodio A dopo Ed eccoci qui Ho distrutto il cristallo E sono anche riuscito Ad abbattere Uno di Una di quelle Lucertole Però adesso Devo provare Eh purtroppo Non ha superato il test Però io adesso Potrei curare Il mio Mago Che è a terra No Non ce l'ha fatta Quello si usa la pozione Ok Ha parato Io però devo andare A dare una mano ai miei E ci vado Questo che fa? Allora Riproviamoci Dove è Zurbaran? E qua Proviamoci Dai 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 Cazzo Che sfiga però Tocca a me No Andiamo di qua Noi Vai Naorim Così speriamo che Puoi fare qualcosa Tu No Aia Se lo prendono Con lui Ma Merda Cazzo Cazzo Neck E anche Noorim andato Eh questo è un problema Adesso Però Eh questo era un bel colpo Ok Ok Aia Ok Ok quello è steso Il problema è sto cazzo di sciamano Che è Allora Io potrei spostarmi qui No C'era l'attacco di opportunità Allora 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 Ce la facciamo A resuscitare Noorim Allora Si deve spostare di qua Eh Vaffanculo però Cioè Questa è sfiga Eh Eh no Non ce la fanno Niente Direi che Qua Non è proprio Non è aria Quindi direi che Per questo episodio La finisco qui E ci riprovo Vediamo poi Quindi un saluto da Noorim Eh Niam E basta Perché gli altri sono morti Ale E ci vediamo alla prossima Ciao